Sono Gabriella Grasso, mi fa molto piacere partecipare al Festival Internazionale della Poesia di Milano. Vi leggerò la mia poesia tratta dalla raccolta Quale Confine, pubblicata per la Colibris nel 2019. Ah, quelle parole che mi vennero incontro, che mi vennero addosso mentre cercavo la vita. Un nero su bianco, su un foglio di fortuna o in formato Word, nel ventre di un computer. Si ancoravano con furia i miei capelli e le portavo in giro con ritrosia. Tremanti e gaiarde, impazienti, incuranti di folate di vento, dell'usura del tempo, di blackout, perentori o capricciosi sbalzi di corrente. Mi hanno insegnato il segreto del gioco, la temerarietà e la fiducia nell'ignoto.